De Agostini mette in velocità Schillaci, Schillaci rientra, cerca ancora spazio, è De Agostini che lo fa in questo istante, scopo per Schillaci, non apre, cerca l'azione personale, va a terra, Juventus preme, Giulio Cesar, pallone dosato, Schillaci, gol! 1-1, Pisa 0, direi, corto, è corto anche il passaggio su Schillaci che viene addirittura strattonato da Dolcetti, corso di partita, lancio molto bello, Schillaci bomba, fuori di poco, si avvede di commettere grossi errori tecnici, tocca per Schillaci, l'apertura è buona, c'è anche Baggio a ridotto di Schillaci, dietro fronto, viene strattonato, Baggio, passaggio per Schillaci che entra in aria, viene strattonato, va a piazzarsi in posizione più avanzata, tira Schillaci, sfiora la traversa, porto per Schillaci, bomba, Paragostini, Schillaci sfiora, Schillaci, aggira l'avversario che lo strattona, lo mette, pallone messo ancora in mezzo per Galia, che alza per Schillaci, ribatte con i piedi,